La giunta regionale di Puglia su proposta dell'assessore di trasporti Giovanni Giannini ha approvato una variazione di bilancio che consente di appostare somme del PORFESR per finanziare la realizzazione di interventi per il potenziamento dell'offerta ferroviaria e il miglioramento del servizio con la definizione delle quote dell'Unione Europea e Stato e del confinanziamento regionale. In poche parole la regione Puglia ha dato il via libera a diversi progetti di messa in sicurezza e non solo della rete ferroviaria regionale. Tra gli interventi vi è il finanziamento dell'installazione del sistema controllo marciatreno, l'ormai tristemente famoso SCMT, sulla tratta gestita da ferro tranviaria tra Andrea e Barletta.